Anni di maltrattamenti, minacce e percosse. Un inferno. Non ci sono altre parole per definire il mondo in cui una 45enne di casatisma, inoltre po', aveva gettato la madre. Voleva sempre soldi e se non glieli davo mi picchiava. Avrebbe confidato la donna di 76 anni ai carabinieri che nelle scorse ore sono intervenuti a seguito di una segnalazione nella casa in cui l'anziana donna viveva col figlio. A loro arrivo il 45enne la stava picchiando ancora. È stato fermato e ammanettato dai militari che l'hanno portato in carcere a Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Per la donna è stata la fine di un incubo che durava da almeno tre anni, hanno spiegato gli inquirenti. L'uomo, da tempo tossicodipendente, aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio. Non era mai riuscito a costruirsi una propria indipendenza ed era sempre lì a chiedere qualche spicciolo alla povera madre che poteva contare solo su una modesta pensione. A lui servivano probabilmente per comprarsi della droga. Lei non aveva mai trovato il coraggio e la forza di denunciarlo ma mercoledì, quando l'ennesimo litigio stava per degenerare e la donna ha capito che di lì a poco sarebbe stata ancora picchiata, ha deciso di fare il 112 e l'inferno è finito. Grazie. 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 Grazie.